Un protocollo d'intesa, quello firmato con il comune di Castiglionfibocchi e SOSAN, che si aggiunge alla lista delle strutture che hanno permesso solo nell'ultimo anno nella nostra provincia di erogare gratuitamente una cinquantina di prestazioni specialistiche ai bisognosi poveri. SOSAN Solidarietà Sanitaria Lions ha effettuato un centinaio di missioni all'estero nei paesi del terzo mondo erogando migliaia di prestazioni mediche e chirurgiche in modo del tutto gratuito. Da cinque anni con il progetto Italia si è organizzata per erogare varie centinaia di prestazioni medico-specialistiche ambulatoriali gratuite a favore degli indigenti presenti anche sul nostro territorio nazionale. È un'iniziativa di solidarietà, nel senso che tutti noi, io per primo, abbiamo molto del superfluo, però bisogna pensare anche a quelli che purtroppo sono nell'indigenza e che non hanno neanche le possibilità di potersi curare. Il SOSAN è un'associazione associata ai Lions che si occupa anche di curare coloro che purtroppo non hanno le possibilità economiche di poterlo fare. Il Comunicazione Fibuocchi ha aderito a questa iniziativa perché purtroppo anche il Comunicazione Fibuocchi ha degli indigenti a cui pensiamo di poter prestare queste cure gratuite perché, come ripeto, le possibilità materiali non ci sono. Tale progetto Italia, che è già operativo anche in Veneto, in Puglia e in Sicilia, nasce in Toscana e più precisamente ad Arezzo e provincia, dove una ventina di medici libero professionisti hanno dato la loro disponibilità. È la prima volta che il settore della medicina privata italiana si organizza in maniera così organica ed estesa per compiere un gesto di solidarietà tanto significativo.